Roberto ha vinto perché non sbaglia, è stato bravo. Sì, ma Roberto è arrivato a fare una boccia ora, è arrivato a sudare. È stata molto difficile. Dio, vedi, sembra che ne abbassano i miei testi tutto al cuore, poi abbassare un po' la musica. E' un impegno, è un impegno. Molto bella. Sì. No, cazzo! No, cazzo! Te l'ho detto! Te l'ho detto! Te l'ho detto! Vincimi! Chi sbaglia di me? Eh, è vero! Ho un po' registrato il busto, ma non era. La preguaggia è un po' che vuoi. Ma è l'ultimo giro? No. E' un busto. Non lo so. No. E allora, io ho sbagliato. No, 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 dai, dai, aspetta, vieni. Eh, devo realizzare il punto guardi. Guardi. Guardi qui, ne trogoso. Un po' per prima. Ah, non funziona così? E societies quindi. no 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 Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì.